Un detergente chimico di stampo bellico, barra biblico, corri a prenderlo da oggi nella nuova imbattibile formula, più fosforo e meno scrupoli. USA al club della nuova svolta, l'Europa in trans col gas di scorta, le Nazioni Unite sono al momento, senti, se dovete lanciare un appello dite tutti ad Assisi dopo il segnale acustico. Guardate Cristo com'è capace di stare in croce col cuore in pace, prendete esempio, fate tesoro, il vero spallo comincia dopo, passo incontro alla conversione, le braccia aperte all'occupazione, qualche chiodo e vi assicuro l'avvenire lungo il muro. E adesso ripetete tutti con me, la chiave per il paradiso è Io etoplasma, meno vertebre, io etoplasma, meno vertebre, io etoplasma, meno vertebre, io etoplasma, meno vertebre. Ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe. Ma che, ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe. A Beethoven e Sinatra preferisco l'intifada, a Vivaldi la sommossa che mi dà più dignità. Ma che, ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe. Ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe. Ma che, ma che, ma che vangelo è? Grazie per la visione!